Lunedì 25 settembre parte l'anno accademico dell'Università di Pesaro, sede distaccata per quello che riguarda i corsi dell'Università Politecnica delle Marche e l'Università degli Studi di Urbino. Carlo Bo, sede universitaria che quest'anno si sposta. Pesaro Studi in Viale Trieste non è più una sede universitaria, è diventata da quest'anno un polo interamente scolastico nel gioco a incastri che ha portato il Comune di Pesaro a trovare soluzioni alla serie di demolizioni e ricostruzioni che sono in corso in città, soprattutto nel quartiere di Soria, scuole che da Soria si sono spostate in Viale Trieste, università che si sposta a Muraglia, si sposta qui nella sede della circoscrizione del quartiere 7 di Muraglia-Montegranaro. C'è stato un riadattamento di spazi per questa struttura che ora ospiterà i corsi di Ingegneria per la Sostenibilità Industriale, Green Industrial Engineering e Sistemi Industriali e dell'Informazione, un primo giorno che è stato accompagnato anche dalla visita del sindaco Matteo Ricci e dall'assessore Francesca Frenquellucci e Camilla a Murgia per vedere i nuovi spazi e dare il benvenuto ai ragazzi. Pesaro Studi, compresa la struttura di fronte della Curi, è diventato il polo della scuola di Soria, ciò quello che era Soria si è sostanzialmente trasferito di là, la scuola media, la scuola elementare e l'asilo perché stiamo facendo una scuola e un asilo nuovo e di conseguenza dovevamo trovare una soluzione alternativa per l'università. Ringrazio le due università che hanno collaborato, ovviamente qualche piccolo disagio ci può essere stato, però è stato individuato questo posto a Muraglia, molto funzionale, abbiamo visto le aule sono perfette per l'università, per i numeri che hanno, è un luogo di facile accesso, non nel centro della città ma neanche lontano dal centro della città, servito dai mezzi pubblici, quindi siamo molto contenti di questa soluzione, mi pare che anche i ragazzi, gli insegnanti abbiano apprestato le strutture che sono state ristrutturate, rinnovate in quest'estate, quindi complimenti davvero a tutti, avanti così, poteva venire fuori qualche disagio, invece tutto sommato tutti gli anni scolastici sono partiti bene, in scuole adeguate, in questo caso anche l'università, della quale siamo orgogliosi perché siamo riusciti a riportare dei corsi decentrati qua e stanno investendo in particolar modo la Politecnica delle Marche, questo è molto utile per i ragazzi e per le nostre imprese.